Siamo in un momento di difficoltà in cui abbiamo particolare bisogno di donatori di sangue, proprio perché stiamo affrontando un'emergenza che per molti versi ancora tutta da scoprire, che dobbiamo affrontare ben equipaggiati. Quindi chi può e sta bene venga a donare il sangue al policlinico, tra l'altro per essere chiari chi dona il sangue in questo momento non aumenta il proprio rischio di contagio perché sarà in compagnia di altre persone sane che sono state selezionate proprio perché stanno bene e sarà assistito da operatori sanitari che sanno benissimo come comportarsi in questi casi. Anzi penso che tutto sommato potrà anche ricevere rassicurazioni e consigli su come comportarsi al di fuori del centro. Come ultima cosa chiuderei con un dato positivo? La trasmissione dei coronavirus con la trasfusione è stata a lungo ricercata ma non è mai stata documentata, quindi sembra che ci sia un pericolo in meno. Beh, almeno quello.